Uber, 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 Uber. Tutti che parlano di Uber, Uberklop, protesta di Uber perché l'Italia è un paese che blocca l'innovazione, siccome è stato sospeso il servizio Uber, pop. Ora io sono a 18 anni che critico l'Italia da un lato e dall'altro ho sempre cercato di divulgare un po' di cultura di internet e della tecnologia. Ho fatto sette anni su Sky a parlare di innovazione quando ancora le persone neanche sapevano cosa fosse internet, per cui sono il primo a sposare la causa dell'innovazione. L'innovazione ce l'ho tatuata sul braccio. Però ci sono una serie di cose che veramente non mi convincono in questa vicenda di Uber e soprattutto nella comunicazione di Uber. Partiamo dal fatto che tutti amano Uber. I giornalisti tecnologici amano Uber. Un po' perché è cool dire che amo Uber ed è un po' da sfigati dire che amo i tassisti, chiaro. Poi se ti occupi di tecnologia devi sempre far vedere che sei avanti e quindi c'è tutto il discorso del mi piace il nuovo per il nuovo eccetera eccetera. Il mondo finanziario stranamente adora Uber. Forse perché hanno raccolto round di investimento da parte di tutti i principali investitori americani. Goldman Sachs gli ha dato 1 miliardo e 6 in convertible notes. Alcuni degli angel più noti che conosco hanno investito in Uber. Fa 400 milioni di revenue secondo un documento che è uscito la scorsa settimana, con circa 400 milioni di costi. Però la crescita è pazzesca, vanno a fare un IPO da 100 miliardi di dollari. Vorrei anche vedere che non fossero innamorati di Uber. Poi ovviamente siamo in un mercato dove è difficile che una persona si schieri a favore dei tassisti perché non sono proprio una delle categorie più amate in generale. Vi dico questa. Io ho vissuto a Roma un anno e mezzo e una volta prendo un taxi dalla stazione Termini dico il mio indirizzo il tassista comincia ad andare esattamente dalla parte opposta. A questo punto dopo due minuti lo fermo e dico Senta scusi, guardi che non sono un turista, vivo qui, può per cortesia andare dalla parte giusta. E dottor, ma me lo dovevi dire subito che non ero un turista? Oh no scusa, scusa se te lo dovevo dire anche subito. Però non mi piace per niente quando un'azienda spaccia il proprio business privato per un'innovazione fondamentale per l'umanità. Perché non lo trovo molto corretto. In pratica la strategia di comunicazione di Uber è geniale e diabolica al tempo stesso e funziona così. Entro in un mercato, non rispetto delle leggi esistenti oppure mi infilo in alcuni meandri legislativi. La categoria dei tassisti insorge chiaramente la maniera dei tassisti. Spesso non in modo propriamente elegante. I media danno grande copertura mediatica dicendo caspita ecco c'è una protesta contro questo servizio che si chiama Uber. La gente viene a sapere dell'esistenza di Uber grazie alla protesta. Uber acquisisce clienti e a questo punto non solo acquisisce clienti ma anche si immola come vittima sacrificale di questo sistema che vuole bloccare l'innovazione. E dai Uber forza un po', dai fai bravo. E poi la grande domanda è qual è il quadro complessivo. Cioè mi immagino un mondo tra vent'anni in cui tutta la mobilità sia gestita da una società privata e sparisce il servizio pubblico. Peraltro la società privata con un founder che è Travis Galanick che c'ha un pelo così che in confronto Gordon Gekko è un dilettante alle prime armi. Io non sto con Uber. Ma non perché mi stiano sui coglioni. Anzi, hanno un livello di sviluppo tecnologico incredibile. Stanno realmente rivoluzionando non tanto il mondo dei taxi che quello è marginale. Stanno rivoluzionando il modo di spostare persone e oggetti nel modo più veloce da un punto A a un punto B. Però non mi piace per niente quando un'azienda cerca di spacciare il proprio interesse di business assolutamente privatistico per una fondamentale innovazione necessaria all'umanità. Umanità peraltro che dovrà anche socializzarsi le perdite derivanti dall'introduzione di quelle innovazioni. Tassisti italiani unitevi a questo punto. C'è su questo video che ribalterà le sorti del confronto Uber-tassisti. Unitevi, copritevi di soldi, andate su Indiegogo, fate tipo la Grecia, avete presente 3 euro a testa, raccogliamo un miliardino, con quel miliardino copre un po' di debito della Grecia e il resto lo spendo in azioni Uber, che con la quotazione in borsa a 100 miliardi, è bellissimo un po' là anche. Ma la gente, secondo voi, ha chiaro quanto sia grande e gigantesca Uber? Andate a questo indirizzo, Crunchbase, e andate a vedere quanti round di investimento, quanti soldi ha raccolto Uber fino ad oggi. Diciamo che più o meno ha raccolto 12 miliardi. Guardate quanta gente ha investito dentro Uber. 85 investitori. Bellin c'è tutta la Silicon Valley dentro lì. È un'azienda che si dice valga 70 miliardi di dollari, poi dici, no vabbè non è 70, 30, 40, quello che è, decine di miliardi di dollari. E com'è arrivata a essere questo fenomeno clamoroso? In tre modi. Numero uno, sviluppando un'ottima tecnologia. Sono stati più bravi degli altri, hanno fatto qualche cosa che la gente ama e adora quando usi Uber, dici, questo è un gran servizio. Numero due, di Travis Kalanick, che è il precedente amministratore delegato e cofondatore, puoi dire qualunque cosa ma non puoi dire che non sia stato una belva dal punto di vista dell'esecuzione. Partire da zero e invadere il mondo così non era facile. Ma numero tre, l'hanno fatto con un'etica da Wolf of Wall Street e con una delicatezza da Tyrannosaurus Rex in un negozio di cristalleria. Non l'hanno fatto alla Google prima maniera. Ricordate, Don Do Evil, Don B Evil, siamo bravi, siamo buoni, siamo gli angioletti, dacci i tuoi dati e poi ne riparliamo. No, no, no. Sono partiti dritti piatti. Andiamo sul mercato, spazziamo via l'esistente e ce lo prendiamo e facciamo il grano a palate. That's it. Tanto di cappello per la schiettezza. Ma dall'altro lato, quando arriva il blocco a Londra di Uber, non è una novità, è una roba che succede a Uber ogni giorno dall'inizio della loro storia. Casini, problemi, cause, blocchi dei vari paesi, manifestazioni. Questa è Uber, sin dall'inizio. Ed è per questo che hanno cambiato l'amministratore delegato, hanno preso adesso questo signore che arriva da Expedia, grande esperienza, per ribaltare la cultura aziendale e anche per dare, diciamocelo, una bella riverniciata in vista di quella che sarà la quotazione in borsa e che farà un sacco di gente molto ricca. Ora entriamo nel merito di Londra. Prima considerazione per chiarezza, Uber tuttora funziona. Semplicemente hanno detto, ti togliamo la licenza a fine mese e poi hanno 21 giorni per fare il ricorso e fare tutte le loro operazioni. Ad oggi è attivo il servizio. Ma la cosa più interessante è dal punto di vista della comunicazione qual è la reazione di Uber in questi casi. Andate a leggere il libro di Brad Stone, Upstarts. Bellissimo. Parla di Uber e di Airbnb. Ha fatto un sacco di interviste, ha seguito Calani e lì c'è scritto esattamente il loro playbook. Che cosa fanno in questi casi? La prima cosa che fa è una bella petizione. L'obiettivo è andare a fare pressione sui politici direttamente da parte dei cittadini. Mandano una bella mail a tutti i clienti, a tutti i guidatori che lo girano alla propria famiglia e istantaneamente raccolgono decine di migliaia di adesioni. La cosa che mi fa sempre sorridere è che il messaggio è sempre uguale. È save your Uber. Salva il tuo Uber. Ed è curiosa questa affermazione perché la parola chiave di questa frase è il tuo. Curiosa perché quando fanno utili, gli utili sono i loro. Quando hanno i casini, i casini sono i tuoi. La seconda arma classica che giocano è associarsi all'innovazione. L'argomentazione che portano per far leva sull'opinione pubblica è se tu blocchi Uber, blocchi il progresso. Quando invece il problema è molto più semplice. Se tu non giochi secondo le regole, sei fuori dal mercato. Se vuoi giocare nel mercato, devi giocare secondo le regole. Non puoi fare la regola della mia c***a che vuoi tu. Ma scusate, è come se io domattina vado in banca, la rapino, e dico guardate, la rapino nel nome dell'innovazione. Perché voglio dare uno universal basic income a tutti, che probabilmente sarà il futuro. Se bloccate Monti, Robin Hood, bloccate l'innovazione. Bello, bellissimo. Quello che succede, ve lo dico, mi arrestano. Punto. E la terza tecnica di comunicazione che usano è sempre spostare l'attenzione sul lavoro. È 40.000 persone che perderanno il lavoro, gli Uber drivers. Per carità, massima sensibilità nei confronti di chi perde il lavoro. Il problema è che, detto da Uber, questa affermazione fa un po' ridere. Perché? Perché nella loro storia non gliene mai fregato niente dei tassisti e degli altri guidatori. Durante la loro giornata tipo, dei 240 e passa mila tassisti e guidatori qua che ci sono in Inghilterra, gli è mai importato qualche cosa Uber? No. Detto tutto questo, il problema vero è che Uber ha creato una tecnologia e ha creato il prodotto che gli utenti vogliono e vorrebbero, il servizio pubblico. Devi diventare così. Il grande problema qui è che se anche tu blocchi Uber, non è che automaticamente allora il servizio pubblico diventa meraviglioso. No, resta sempre quello che è. E in un mondo fatato, ideale, quale sarebbe la soluzione? Avere un servizio pubblico con la tecnologia di Uber. Cioè che questi soggetti, al posto di farsi la guerra, trovassero un modo per collaborare e coordinarsi. Che è molto difficile. E se si va avanti così, alla fine perdono tutti. Perdono i cittadini, perde Uber, perdono le città, perdono i tassisti, perdono tutti. Il nuovo CEO, amministratore delegato di Uber, l'ha alla fine dei conti riassunta bene. Ha detto, giustamente nella sua lettera mandata a tutti i dipendenti dopo il blocco di Londra, c'è sempre un costo molto alto che si paga quando ti crei una pessima reputazione.